Il lavoro è un argomento importante nella vita di ciascuno di noi e allora se permetti ti passo 11 considerazioni stimolanti che possono aiutarti a trovare lavoro, a inserirti nel mercato del lavoro al di là della tua età, della tua esperienza e di quanto dicono gli esperti. Oggi si parla tanto di crisi ma io ti invito a fare questo, ad essere audace, leale e irragionevole. Soprattutto questo, in un periodo di crisi devi essere irragionevole. Perché? Perché devi sognare. Quanta gente sa sognare? Quanta gente si ferma invece a causa degli ostacoli? Quanta gente si blocca nel realismo perché deve sentirsi ragionevole? Deve desiderare un posto di lavoro sicuro che prendi a 20 anni e che lasci a 70 anni? Quando potrai andare in pensione? Beh, tutto questo non ti porta a trovare un lavoro adatto a te. Devi essere audace, devi essere leale, devi essere coerente con i tuoi sogni e quindi tutto questo è irragionevole in questo mondo appiattito dalla propaganda. Quindi io ti invito a puntare diritto al tuo sogno. Stiamo parlando del lavoro che è una cosa importante. Io ti sto parlando di una cosa ancora più importante. Ti sto parlando della qualità della tua vita. Chiarisci tra te e te al 100% se preferisci sperare di vivere tranquillo in disparte, cioè se condurre una vita da subordinato con uno stipendio piccolo ma tranquillo. Quindi startene lì, sperare che la crisi economica non eroda i tuoi risparmi, sperare che non arrivi una guerra, sperare che non ti facciano del male, sperare che l'inquinamento non ti riguardi, sperare che non ci siano nuove tasse. Quindi chiarisci se tu vuoi vivere così, in disparte, sperando di stare tranquillo, oppure se hai deciso di creare la tua esistenza, se hai deciso di essere un imprenditore. Questa è una scelta fondamentale. Tu devi sapere se vuoi startene tranquillo, se vuoi fare il gregario, il subordinato e può andare benissimo perché c'è bisogno anche di gregari, c'è bisogno anche di subordinati. Oppure, se tu hai deciso di creare la tua esistenza, devi chiarirlo a te stesso, al 100%. Non puoi cercare un posto di lavoro tranquillo e poi sperare di guadagnare di più. Il posto tranquillo ha uno stipendio fisso, quindi non potrai avere ambizioni. Mettiti il cuore in pace. Vuoi stare in un posto sicuro da 20 a 70 anni, per poi andare in pensione, e allora accetta di startene lì, sperando che nessuno ti faccia male. Invece, se decidi di creare la tua esistenza, vai incontro alla vita, assumiti tutti i rischi, assumiti tutte le incertezze e naturalmente ottieni tutti i vantaggi che la libertà ti concede. Un altro argomento da tenere in considerazione per trovare il lavoro adatto a te è questo. Conosci te stesso, è un concetto antico, è già stato detto da tantissime persone. Io aggiungo due pensieri. Sappi dove vuoi arrivare e addestrati per riuscirci. Quindi devi sapere esattamente chi sei, quali sono le tue ambizioni, devi stabilire un traguardo e devi addestrarti per raggiungere il traguardo. Le tre cose vanno insieme. Conosci te stesso, sappi dove vuoi arrivare, addestrati per riuscirci. Sappi perché sei grande e spiegalo al mondo, evitando tanto l'arroganza quanto la modestia. Tu devi sapere chi sei, devi sapere che ciò che tu sei, devi sapere che il tuo sogno sono importanti, sono grandi e devi spiegarlo al mondo, non startene in disparte. Non dico che devi essere arrogante, prepotente e importi senza motivo. Dico che devi dire le cose come stanno. Devi essere consapevole della tua grandezza e devi dirlo. Evita la modestia perché la modestia ti tiene lì, bloccato con i sogni nel cassetto. Questo non è coerente con la tua ambizione di trovare il lavoro che desideri. Argomento numero 5. Abbi un progetto di crescita. Sii disposto a imparare. Sii abilissimo nel riciclare le esperienze. Tante persone non trovano lavoro perché non vogliono cambiare lavoro o non vogliono adattarsi. Non hanno intenzione di uscire dai binari. Siccome per vent'anni hanno sempre fatto una cosa, trovano scandaloso cambiare strategia. Beh, se tu hai un'esperienza di vent'anni, di cinquant'anni, dovresti essere anche abilissimo nel riciclare la tua esperienza e creare qualcosa di valido in un altro settore. Sii disposto a imparare. Questo vale a cinquant'anni, a sessant'anni, come a dieci anni, come a vent'anni. E tutto questo funziona se tu hai un progetto di crescita. Senza un progetto di crescita, allora non vedrai mai le occasioni nella vita e continuerai a lamentarti perché non ti danno la pensione, oppure non ti danno il posto fisso, non ti danno quello che tu aspetti. Quando tu hai un progetto di crescita, non stai lì ad aspettare che qualcuno ti dia il regalo. Ti procuri tu ciò che ti serve per vivere. Crea qualcosa di valore e fallo conoscere al mondo. Sarà il mondo che verrà a cercarti e pagherà per averti. Le persone di successo sono persone che meritano il successo perché creano qualche cosa che il mondo apprezza, qualcosa di cui il mondo ha bisogno. Sto parlando di cose vere, di cose che funzionano. Non sto parlando del successo facile. Quindi, se vuoi trovare lavoro, diventa prezioso per il mondo. Fa qualche cosa che soltanto tu sai fare così bene, in quel luogo, in quel tempo, e sarà il mondo che verrà a cercare proprio te, che pagherà te, per poter disporre del tuo valore. Insisti sino ad ottenere il risultato. Se cerchi il lavoro presso altri, il limite è l'educazione che ti impedisce di insistere. Se tu vuoi fare il gregario, il subordinato, e vuoi un posto di lavoro, beh, non puoi andare tutti i giorni a bussare alla stessa porta per chiedere il lavoro. La buona educazione ti impedisce di insistere. Ma se tu scegli l'altra strada, quella dell'imprenditoria, quindi se tu lavori per te stesso, allora io ti invito ad insistere tenacemente 24 ore al giorno, sino al risultato. Persino di notte, quando dormi, i tuoi sogni devono essere incentrati sul tuo successo. Quindi, lavora tenacemente sino a ottenere il risultato. Lavora tutti i giorni 24 ore al giorno. Lo devi a te stesso. Stiamo parlando della qualità della tua esistenza. Combina creativamente le tue risorse, i sogni, le abilità, le competenze e i contatti. Mi rendo conto che questo è complicato, cioè riuscire a sognare, essere distaccato dalla realtà, e al tempo stesso essere nella realtà. Per mantenere i contatti con le persone, con le aziende, con il mercato, è difficile. Come è difficile combinare le tue abilità, le tue passioni e trasformarle in competenze che il mercato paga. Tutto questo è difficile, eppure tu devi proprio combinare creativamente le tue risorse. La parte difficile è che devi essere imprenditore di te stesso da subito. Devi esserlo anche se speri di stare tranquillo, indisparte e dimenticato. All'inizio ti dicevo, scegli tu che cosa vuoi fare. Se vuoi fare il gregario, se vuoi fare il subordinato, se vuoi startene in disparte sperando di avere uno stipendio fisso da 20 a 70 anni. Ma non funziona così. Non può funzionare così. Non puoi startene in disparte mentre il mondo cambia. Devi essere imprenditore di te stesso, perché mentre tu te ne stai tranquillo, sperando che nessuno venga a farti male, c'è qualcuno più abile di te, che ha più sogni, più abilità, più competenze, più contatti, e quindi ti butta fuori dal mercato. Che cosa devi fare? Devi essere imprenditore. Anche se tu sognavi di fare il subordinato, devi comunque essere imprenditore di te stesso e amministrarti al meglio, creativamente. Presentati in modo diretto, leale, sincero e soprattutto educato. Quando tu vai incontro al mercato, ricordati la buona educazione, che è qualcosa che manca in questo periodo e che se tu adotti, ti distingue. Non supplicare mai lavoro e aiuto. Non fare il penoso ventenne che ha in mano la vita ed è lì che piange. Non fare il penoso sessantenne che ha in mano l'esperienza ed è lì che piange. Quindi non supplicare mai lavoro e aiuto quando ti presenti al mondo. Piuttosto, chiedi informazioni e chiedi consigli e dimostra la tua passione alle persone a cui ti rivolgi. Se tu ti presenti con passione, se tu ti presenti con creatività, con determinazione, vieni ammirato e quindi le persone volentieri ti danno una mano, perlomeno ti danno informazioni, ti danno consigli, ti danno delle indicazioni che possono portarti alla tua meta. Tutto questo tu lo ottieni se ti presenti in modo diretto, leale e soprattutto educato. Vediamo a questo punto quello che ti allontana dal successo. Si tratta di sei cose. La prima cosa è l'autostima bassa. Se tu non credi in te stesso, al di sopra di quanto dicono gli esperti a proposito delle crisi di mercato, allora questo ti imbroglia, questo ti frena. Devi avere un'autostima altissima. L'altro problema che ti allontana dal successo è l'egoismo, la disonestà, il pensare che tu ottieni successo per stare bene tu, con i tuoi amici, con i tuoi familiari e nulla più. Ti allontana dal successo la pigrizia e la lentezza, perché non agisci finché non vedi che ci sono le buone condizioni per agire. E poi, nessuna voglia di faticare. Se hai paura di sporcarti le mani, di sudare, di fare tardi la sera, allora non arrivi al successo. Non arrivi al successo nemmeno se non hai nessun progetto etico straordinario. Se tu non vuoi cambiare in meglio questa società, il tuo ambiente, con una forza etica straordinaria, non arrivi da nessuna parte, perché la propaganda ti tiene lì, bloccato, nel pantano del pessimismo. E infine, non arrivi da nessuna parte se tu cerchi soltanto un lavoro per uscire presto alla sera con i soldi che hai guadagnato e andarli a spendere subito in divertimenti. Questo non è un progetto di vita e non arriverai mai al successo. Vediamo dunque l'ultima di queste considerazioni per trovare lavoro. Ossia, parliamo di quello che ti occorre per raggiungere il successo. Per prima cosa ti serve una passione indomabile. Come ti ho già detto, tu devi essere al di sopra di tutte le critiche e le opinioni contrarie e il pessimismo che dicono che non puoi avere successo. Tu devi credere nel tuo successo con una passione indomabile. E poi, devi avere un'integrità inossidabile. Tu devi rispettare i valori della vita, al di sopra di quello che la moda dice, al di sopra di quello che certi personaggi corrotti fanno e sembra che sono al potere. In realtà non sono al potere, sono dei burattini manovrati dai loro vizi. Tu, per raggiungere il successo, conserva la tua integrità in modo inossidabile. E poi, devi avere la personalità di chi sa di essere nel giusto. Tu hai una missione, hai un'ambizione, stai facendo delle cose di valore e di conseguenza ti comporti con sicurezza perché sai che stai presentando qualcosa che ha valore nel mondo e vai avanti perché sai di essere nel giusto. ti serve intelligenza creativa, devi ragionare, devi fare dei progetti e devi avere la capacità di essere innovatore nel tuo settore e nella tua società perché non puoi sperare di trovare un posto fisso all'interno di questa società che è allo sbando, che ha prodotto e che produce inquinamento e gente stressata. Ti serve una pianificazione e delle verifiche intermedie per decidere dove andare e per sapere quanto ti manca per raggiungere il traguardo. E infine, per raggiungere il successo nel lavoro, ti occorre la capacità di comunicare la tua visione. Tu devi comunicare la tua visione per coinvolgere altre persone e creare insieme con loro una società di qualità. Ti invito a riflettere su queste undici considerazioni a proposito del lavoro, del lavoro condotto con intelligenza per arrivare al successo. Sviluppa le tue risposte, sviluppale con passione, sviluppale con integrità, mettici la tua personalità, la tua intelligenza creativa, scrivi un piano e comunica la tua visione e in questo modo non soltanto troverai un lavoro adatto a te, ma ti sentirai felice e realizzato nella vita e soprattutto farai del bene al mondo perché il mondo ha bisogno di persone che si sentono felici, che producono qualcosa di utile e che contribuiscono all'innalzamento della qualità della vita. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.